È stata presentata oggi la comunità per minori di Avigliana, struttura realizzata e finanziata da Fondazione Paideia destinata alla gestione di un centro di accoglienza residenziale per minori che hanno subito abuso o maltrattamento. Il centro ospiterà al suo interno fino a 10 bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Gli inserimenti verranno decretati da un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile concordati con i servizi competenti. Scopo della comunità è garantire ai minori vittime di abuso e maltrattamento un percorso di cura e tutela in un luogo sicuro sostenendo il bambino e gli adulti di riferimento in un cammino individuale e personalizzato per l'elaborazione del trauma e la ricostruzione di legami e relazioni positive. Ma sentiamo in proposito Fabrizio Serra, segretario generale della Fondazione Paideia. Presentiamo oggi questo progetto che vuole essere un progetto che parte da un concetto molto più ampio di comunità perché interverremo anche sul territorio della Valsusa con un intervento che partendo da quelle che sono un po' i desideri, le paure, le attese o i bisogni dei bambini del territorio invece si esprimerà poi in una struttura residenziale che accoglierà bambini invece allontanati dalle proprie famiglie per problemi di abuso e maltrattamento. Questa struttura risponderà invece ai bisogni più ampi di tutta la regione Piemonte. Dal punto di vista operativo abbiamo stipulato una partnership con una realtà del territorio, la cooperativa sociale Paradigma, con la quale interverremo con un duplice intervento che coniugherà da una parte un approccio di tipo psicoterapeutico e dall'altra parte un approccio più tradizionale delle comunità residenziali minori che è quello educativo. Quindi coniugheremo questi due tipi di approcci ed insieme proveremo ad intervenire sia sul minore che in questo caso è la vittima di una situazione di maltrattamento, ma anche sulla famiglia d'origine per cercare di capire come, quando è possibile, poter permettere al minore il rientro nella propria famiglia e quando questo non dovesse essere invece possibile, favorire l'inserimento del bambino all'interno di una famiglia disponibile all'accoglienza, una famiglia fidataria. Per la pagina della cultura ci colleghiamo adesso in diretta con Luca Boscaini che si trova a Palazzo Birago in via Carlo Alberto a Torino dove proprio in questi minuti viene inaugurata la mostra Dalle Antille a Torino. Luca, ci senti? Pronto? Grazie Fabrizio. Noi siamo con la professoressa Rabino per presentare il museo Dalle Antille a Torino e dietro di noi c'è un ospite molto speciale. Sì, lo Zemi. Questa è una mostra, non è il museo perché è il museo in un'altra sede. La Camera di Commercio, che io ringrazio perché ha messo a disposizione le sale, ha accettato di organizzare questa mostra con questo idolo precolombiano che è un reperto unico al mondo, non esiste un altro. Rappresenta quello che è il residuo della cultura tahino che è stata la prima popolazione che Colombo ha incontrato arrivando nel nuovo mondo. Grazie mille professoressa. Noi intanto vi ricordiamo che nella notte tricolore la mostra Dalle Antille a Torino rimarrà aperta fino a mezzanotte, quindi è un invito ad approfittarne, giusto? Sì, oltretutto va ricordato, non so se l'ho detto prima, che è un reperto unico al mondo, non esistono altri, è patrimonio dell'umanità e quindi è veramente un oggetto speciale e importante. Alla fine della mostra, il 25 marzo, ci sarà una conferenza nell'Aula Magna, una tavola rotonda, nell'Aula Magna del Rettorato dove gli antropologi culturali parleranno della storia di questo Zemi. Infatti la tavola rotonda si intitola Zemi racconta la cultura tahina, quindi gli facciamo anche dire delle cose. Grazie mille alla professoressa Arabino, intanto vi restituiamo la linea, a te Fabrizio. Grazie, grazie Luca, davvero un'occasione unica per apprezzare un oggetto che l'abbiamo scoperto adesso, è unico al mondo. Il meteo adesso, oggi le temperature a Torino sono state decisamente miti, si sono toccati anche i 15 gradi, ma che tempo farà domani? Andiamo quindi a vederlo assieme, sarà un venerdì soleggiato un po' ovunque, ma attenzione perché il sole, che caratterizza anche la nostra cartina, rischia di lasciare il posto a nuvole e anche a pioggia nel weekend. Le temperature, le minime, saranno in aumento, varcheranno la soglia degli 0 gradi, andranno da più 1 a più 4 gradi, in lieve calo invece le massime che andranno domani da 11 a 13 gradi, quindi lieve calo rispetto a oggi, ma comunque temperature tutto sommato miti. Sono le 19.28 minuti, quasi 29, il T4 finisce qui, io però prima di salutarvi vi ricordo che le ultimissime del Piemonte le potete trovare sul nostro sito www.quartarete.tv dove potrete anche seguire tutti i nostri programmi in diretta, in streaming, quindi non perdetevi l'appuntamento con il nostro sito e ovviamente non perdete anche gli appuntamenti della nostra serata nella fattispecie della nostra serata sportiva. Subito dopo la sigla c'è l'appuntamento con Qui Calcio, con Giancarla Tenivella e Cristiano Tassinari, e poi alle 20.30 spazio al Torino, con Granata Doc, con Carlo Testa, con tutti i suoi ospiti, ovviamente tema caldo il cambio in panchina da Lerda a Papadopolo. Grazie per averci seguito, l'appuntamento con il T4 è per domani sera, arrivederci, buona serata.